Notte magica quella trascorsa a Bergamo tra cori ed entusiasmo perché a Dublino è stata scritta la storia tra eroi che hanno graffiato una partita che va a premiare quello che è il lavoro per raggiungere una storica vittoria in Europa League Tocca analizzare quello che ha combinato l'Atalanta, buttiamoci nell'analisi Tutta Italia scommetto il 95% dell'Italia ha tifato l'Atalanta in finale De Europa League una vittoria storica, una vittoria che ha riempito d'orgoglio un po' tutta la penisola Ragazzi è stato strapazzato un Bayer Leverkusen, il Bayer Leverkusen campione di Germania con tanto di record di imbattibilità è stata una partita al limite della perfezione Proviamo ad analizzare quelle che sono state le chiavi tattiche che possono secondo me servire da lezione a quelli che sono gli appassionati di calcio ad allenatori, aspiranti allenatori, allenatori che già magari esercitano la professione perché abbiamo assistito secondo me ad una masterclass di Gasperini Ci tufferemo immediatamente nell'analisi ma prima ci tenevo a ricordarvi che sono aperte le iscrizioni per i corsi del prossimo mese se volete lavorare in questo ambito, quello calcistico e diventare osservatori match analyst e data analyst, formazione completamente online accesso ad offerte di lavoro nel mondo del calcio accesso anche a programmi professionali ragazzi se vi va trovate come sempre tutti i link qui in basso in descrizione anche solo per chiedere potete mandare una mail ma come sempre per iniziare con l'analisi trattiamo qualche dato i dati da considerare questa volta secondo me parlano in maniera netta a partire da un 75% di teckels vinti dall'Atalanta che ha costruito ed affrontato una partita aggressiva questo il dato secondo me molto positivo occhio anche alle 11 palle intercettate magari anche in questo caso non un numero altissimo ma altro fattore che ci fa intuire quella che è stata l'impostazione della gara che ha lasciato senza respiro i tedeschi 19 i duelli aerei vinti perché ad un certo punto il Bayern ha provato anche ad alzare un po' la palla ma anche lì l'Atalanta ha avuto la meglio attenzione inoltre ad un altro dato quello degli 8 passaggi chiave sì è stata una partita aggressiva ma la squadra ha provato a far male all'avversario non possiamo dire che ha pensato solo a difendere inoltre i tiri in porta sono stati ben 7 il numero è maggiore rispetto a quanto concesso al Bayern Leverkusen perché in questo caso parliamo di soli 3 tiri in porta concessi all'avversario dati che secondo me introducono quella che è stata una preparazione molto certosina della partita perché l'obiettivo è stato chiaro almeno secondo quello che ci suggeriscono i numeri provare a limitare l'avversario provare ad affrontare una gara anche al limite per quanto riguarda le entrate il pressing ma impostare anche una gara che ha come l'obiettivo quello di far male quando l'avversario lo concede tutto ciò lo andiamo ad approfondire attraverso la lavagna tattica che utilizziamo innanzitutto per andare a leggere quella che è stata l'impostazione di Gasperini sistema di gioco abbastanza classico con una linea di difesa a 3 centro campo anche qui classico linea di difesa a 4 con gli esterni che si abbassano quando necessario e tridente d'attacco sarò ripetitivo anche in questo caso abbastanza classico ma l'impostazione è stata netta parliamo appunto dell'aggressività della squadra che provava ad impedire all'avversario di giocare liberamente come vediamo in questa zona evidenziata infatti i passaggi erano resi praticamente impossibili perché le marcature a uomo toglievano gli appoggi al Bayern Leverkusen che a tratti è stato obbligato o a perdere palla o ad optare per il lancio lungo opzione che l'Atalanta ha affrontato in maniera consapevole infatti in linea di difesa molto attenta ed in generale squadra molto mobile nell'andare a salire quando necessario abbassarsi di nuovo quando necessario e quindi fisicamente la preparazione è stata netta ma le cose sono cambiate durante il secondo tempo quando il Bayern ha preso un po' il sopravvento per quanto riguarda il possesso Atalanta più schiacciata ma anche in questo caso consapevole linea di difesa a 5 che ha fatto la differenza supportata dal resto della squadra un nome su tutti io citerei Ederson un giocatore che vediamo attraverso la mappa di calore praticamente onnipresente ad aiutare la squadra durante tutte le fasi di gioco questo è stato lo spirito dell'Atalanta che secondo me ha concesso ai Bergamaschi un certo tipo di approccio che alla fine ha portato a dare frutti abbiamo visto anche un momento in cui abbiamo visto graficamente l'Atalanta è stata schiacciata dal Bayern schiacciata relativamente perché il Bayern ha alzato il baricentro ma senza creare chissà quanti problemi all'Atalanta di nuovo organizzazione tattica ma grande spirito di sacrificio da parte di difensori ovviamente ma anche centrocampisti e attaccanti occhio anche al dispendio di energie fisiche che i giocatori sono stati disposti a mettere a disposizione della causa altro fattore che ha fatto la differenza tutto ciò lo andiamo a vedere attraverso degli esempi che ci narreranno in maniera ancora più chiara quanto spiegato ecco un chiaro esempio di questo pressing forsennato a togliere gli appoggi al Bayern Leverkusen che qui praticamente non trova sbocchi e perde la palla occhio anche a questa situazione di pressione del Bayern Leverkusen che comunque non riesce a penetrare anche grazie al grande contributo dei giocatori più offensivi in questo caso abbiamo visto De Keteler ma di nuovo c'era Ederson lì ad aiutare la linea di difesa a 5 quindi grande contributo da parte di tutti i calciatori e ripeto grande contributo fisico ed energetico ma non possiamo ridurre solo a tutto quello che abbiamo trattato finora quella che è stata la storica vittoria dell'Atalanta in Europa League perché sì c'è stato grande spirito di sacrificio in fase di non possesso ma quando la squadra aveva la palla o recuperava la palla anche lì i concetti da mettere in pratica sono stati molto chiari e molto ben eseguiti proprio quando il possesso veniva recuperato infatti abbiamo visto qual era l'idea della squadra cercare giocatori più avanzati liberi dalle marcature per avere a disposizione diversi passaggi passaggi che avevano l'obiettivo di andare a trovare spazi liberi da occupare attraverso scambi veloci e movimenti senza palla questo soprattutto durante il primo tempo ma quando c'è stato da soffrire un po' di più di nuovo la squadra aveva chiaro il concetto di andare a sfruttare i corridoi in verticale lasciati dall'avversario come nel gol di Lukman giocatore che ragazzi vediamo attraverso la mappa di calore giocatore che ha dato un grande contributo nella zona più avanzata del campo sì quando c'è da difendere a difeso ma dobbiamo sottolineare in questo caso sì il contributo offensivo del giocatore che ha fatto tutta la differenza del mondo anche in questo caso rifacciamoci gli occhi con le immagini situazione inerente al primo tempo palla recuperata movimenti senza palla ad occupare spazi liberi questo un chiaro esempio quando invece c'è stato il terzo gol quello del KO corridoi in verticale in transizione positiva per andare a punire l'avversario il gol di Lukman confesso è stata anche una scusa un po' per rivederlo ci sono state occasioni più chiare per quanto riguarda l'andare a sfruttare questo tipo di situazione ma questa meraviglia volevo rivederla e volevo riproporla anche a voi detto ciò parliamo di un Lukman che diventa simbolo di quella che è stata una squadra ben organizzata che ha saputo cosa fare in ogni fase del gioco e della gara ci sono state diverse partite all'interno della partita primo tempo, secondo tempo, sofferenza, dominio ed in ogni situazione di gioco l'Atalanta ha saputo cosa fare per questo secondo me è stata una masterclass di Gasperini confesso che l'entusiasmo penetra questa analisi ma quando vince un'italiana ed un allenatore che ha lavorato bene a me fa sempre piacere come sempre però questa è solo e soltanto la mia analisi vi aspetto qui in basso nei commenti per conoscere le vostre opinioni quelle che sono le vostre letture mi raccomando fatemi sapere nel frattempo fate i bravi ci rivediamo sicuramente ad una prossima analisi ad un prossimo video let's go